L'ho vista con la panciotta, incinta, che aspetta una bimba, quindi conosco anche la sua versione mamma, compagna e donna, come tutte quante noi. Sulla cucina non mi differenzio moltissimo da quello che ho appena visto. Allora, Giorgia, grazie di essere qui oggi. Parliamo di cose serie. La cucina è una cosa seria, ma parliamo di cose serie. Perché? Sai benissimo, quello del Corriere della Sera, il Ministro Boccia, passaporto sanitario è contro la Costituzione. C'è lo scontro ancora fra le regioni. Come ben sai, c'è chi chiede il passaporto sanitario, parlo, se non sbaglio, del Presidente, il Governatore della Regione Sardegna, e quindi non ci si mette d'accordo. Cosa ne pensi tu? Ma guarda, penso che intanto non aiuti nessuno questo clima di scontro tra i livelli istituzionali. Questo è un grande tema che varrà la pena di riaprire, anche quando sarà finita l'emergenza, sul nostro assetto istituzionale, sull'autorevolezza dello Stato centrale in rapporto alle autonomie, sul fatto che secondo me il Presidente del Consiglio dovrebbe essere eletto direttamente dai cittadini, insomma ci sono varie proposte di Fratelli d'Italia su questo tema, però non voglio entrare in questo. Io penso che noi dobbiamo lavorare per ripartire tutti quanti insieme, Barbara. E tra l'altro, attenzione sul tema del rapporto tra le regioni, perché noi tutti insieme in questi giorni dobbiamo fare una battaglia in Europa per impedire che in Europa si organizzino corridoi turistici contro di noi. Abbiamo visto nei giorni scorsi che c'è il tentativo in particolare da parte della Germania di favorire corridoi turistici verso nazioni vicine alla Germania, mettiamola così, come può essere la Grecia piuttosto che la Croazia, saltando l'Italia. Poiché noi dobbiamo ricordare di avere un PIL che dipende dal turismo che si aggira intorno al 13%, sono decine e decine di miliardi di Euro, per noi riuscire ad attrarre turisti, soprattutto dall'estero, anche in una fase come questa diventa fondamentale. Se ci mettiamo a dire al nostro interno che ci sono alcuni italiani che non si posono e non si devono muovere e che bisogna fare attenzione al rischio contagio, noi ci dimentichiamo che qualunque turista straniero in una fase come questa fondamentale in Italia. Ora, già non sarà facile, perché non sarà facile e secondo me bisogna fare di tutto per ravvivare soprattutto il mercato interno, quindi il turismo italiano in Italia. Però i messaggi che dobbiamo dare devono essere rassicuranti. Quindi io mi piacerebbe e spero che alla fine ci si possa sedere intorno a un tavolo con serenità e capire che con il rispetto dei protocolli e con la responsabilità che comunque gli italiani hanno dimostrato, stanno dimostrando e dimostreranno, noi possiamo ripartire come nazione, non uno contro l'altro, ma tutti insieme. Esatto. A proposito di Europa, Giorgia, stanno arrivando questi soldi, no? 172 miliardi per l'Italia. Cosa ne pensi? Penso che intanto aspettiamo che arrivino, nel senso che la Commissione europea ha fatto una proposta che io considero assolutamente un passo in avanti, un segnale positivo da parte dell'Unione europea e che però purtroppo non dobbiamo considerare che sia un fatto, cioè che sia già accaduto, mettiamola così. Il trionfalismo che sto leggendo in queste ore, in questi giorni su questo tema, secondo me è un po' eccessivo. Bisogna essere prudenti perché la Commissione ieri ha fatto una proposta e subito i paesi falchi dell'Unione europea hanno avvertito che la trattativa sarà molto lunga. E vedi, in questa vicenda i dettagli fanno la storia, nel senso che, punto primo, dobbiamo vedere alla fine quante saranno effettivamente queste risorse. Le risorse della Commissione sono secondo me insufficienti, ma sono comunque significative. Noi avevamo parlato di almeno mille miliardi, Gentiloni aveva parlato di 600 miliardi, adesso siamo sui 700 miliardi, ma insomma vabbè, bisogna vedere se intanto rimangono queste le risorse. Secondo, bisogna vedere quando arrivano i soldi e questa è la cosa più importante, Barbara, perché se fosse per esempio vero quello che ho letto su alcuni quotidiani, per cui questi soldi verrebbero spalmati in dieci anni, in sette anni, è ovvio che una cosa sono 80 miliardi oggi, una cosa sono 80 miliardi in dieci anni, insomma rischi che buona parte di quello che ci devi salvare sia già morto nei prossimi sette anni o nei prossimi dieci anni. Tant'è che alcuni dicevano che per il 2021 pare che ci siano, per il 2020 chiedo scusa, pare ci siano solamente 11 miliardi per tutti i 27 Stati membri, vuol dire che all'Italia arriva a un miliardo, due miliardi. E allora capisci che non è che abbiamo proprio svoltato, come ci vogliono far credere, abbiamo risolto i nostri problemi. Terza questione importantissima, oggi sui più autorevoli quotidiani si diceva, ecco cosa l'Unione Europea chiede in cambio rispetto al fatto di dare questi soldi, come riforme strutturali da fare. Ora io quando sento parlare l'Unione Europea di riforme strutturali da fare in Italia, un po' mi preoccupo, perché le abbiamo viste le riforme che chiede l'Unione Europea, e sono tutte manovre, lacrime e sangue, per cui vorrei sapere esattamente che cosa vuole in cambio l'Unione Europea per mobilitare queste risorse. Queste tre questioni per me sono dirimenti e fanno la differenza tra un ottimo passo avanti dell'Unione Europea e quindi un'Unione Europea che forse comincia a capire la lezione di quanto consenso perdi quando ti comporti in modo egoista, oppure un altro nulla di fatto, un'altra presa in giro come diverse ne abbiamo viste in questi mesi. Direi che è il caso di combattere in queste trattative e di dire definitivamente che cosa ne pensiamo quando le trattative saranno chiuse. Parlavamo della crisi, sono ormai mesi che ne parliamo, purtroppo è reale, ci sono aumentati i poveri, non riapriranno ristoranti, non riapriranno strutture, non hanno i soldi, non sono arrivati i soldi. Secondo te l'economia come si può risollevare? Io ho letto che tu sei molto critica per esempio su alcuni provvedimenti tipo il famoso bonus del monopattino di cui sei tanto parlato. Eh beh ma sono critica sì Barbara perché vedi noi stiamo parlando di come facciamo a trovare le risorse. non è facile trovare tutti i soldi che servono in questa fase e appunto no, stiamo guardando a 360 gradi, però intanto 80 miliardi di Euro il Governo li sta già spendendo e non sono pochi, sono tre manovre finanziarie quasi o comunque due e mezzo e sono tante risorse che secondo me il Governo sta spendendo male. Le sta spendendo male Barbara perché per intenderci non servivano 269 articoli di decreto rilancio per far arrivare subito i soldi alle famiglie, alle imprese di questa nazione. I 269 articoli servono per altro, servono per i bonus a pioggia, servono per moltiplicare le portrone dei consigli di amministrazione, servono per rafforzare il potere di chi comanda. Per esempio c'è scritto nel decreto rilancio che ci saranno 2 milioni e 400 mila Euro di nuove consulenze al Ministero dello Sviluppo Economico. Secondo te è questo il momento di spendere 2 milioni e mezzo di consulenze per il Ministro dello Sviluppo Economico? Quante aziende posso salvare con 2 milioni e 400 mila Euro? Quando me no. Te lo dico io, molte di più di quelle che possono salvare i consulenti, te lo dico io, molte di più. Per cui quando io vedo che in un decreto come questo, in un momento come questo ci sta dentro le consulenze, il consiglio di amministrazione e il bonus monopattino, diciamoci anche questo, io esco pazza. Perché tu non mi puoi fare un decreto in un momento come questo in cui metti, dopo che abbiamo dato 50 milioni di Euro ai disabili, 50 milioni, 50 milioni di Euro il bando per le mascherine, per le aziende, per comprare le protezioni sanitarie, il click day è finito dopo un secondo, perché c'erano solo 50 milioni, mi metti 120 milioni sul bonus monopattino? Dice no, serve a decongestionare i mezzi pubblici. Andateglielo a spiegare ai pendolari di andare a lavorare col monopattino, perché il problema qui Barbara è che questi provvedimenti li scrive gente che lavora al centro e abita al centro. Sono i privilegiati, quelli che purtroppo la realtà non la toccano e quindi vivono in un mondo tutto loro. Io abito sul raccordo anulare, ci metto 40 minuti con la macchina ad andare a Montecitorio, ci vado col monopattino, oppure vogliamo dare il bonus a quelli che abitano al centro di Roma, cioè sono al netto del fatto che già che fai il monopattino, allora magari pensa lo so ai motorini, che almeno li fa qualche azienda italiana, perché in tutto questo i monopattini li fanno solo i cinesi, per cui facciamo pure i provvedimenti per aiutare le aziende cinesi. Non altro con i motorini se uno abita a 100 milioni. Io ci arrivo al centro da raccordo anulare col motorino, è più utile e almeno aiuti anche le tue imprese, invece sono cose oggettivamente folli, scritte da gente lunare che vive su un altro pianeta. Allora io dico, certo se ci dobbiamo risollevare così abbiamo un problema, che cosa andava fatto? Liquidità subito, soldi alle imprese, la prima cosa che noi dobbiamo fare Barbara è fare in modo che le imprese rimangano aperte, perché hai voglia a fare assistenzialismo, noi non avremo tutti i mesi 50 miliardi di Euro per fare assistenza, il prossimo mese se noi non abbiamo quei 50 miliardi di Euro, le persone che siamo riusciti a aiutare questo mese saranno comunque in mezzo alla strada e ci saranno il mese dopo e il mese dopo ancora, a meno che non aiuti le imprese a rimanere aperte e questo si fa con liquidità, si fa abbassando le tasse e si fa aiutandole levando tutti i vincoli, abbiamo chiesto di togliere i vincoli e il tetto al contante gli iso e lo scontrino elettronico e tutta questa roba qui dello Stato che ti massacra, li devi togliere, devi fare indietreggiare lo Stato, in questo momento devi dire agli imprenditori che lasciano aperto, sei un eroe, lo Stato te lo troverai a fianco, non ti creerà problemi, vedrai come ti aiuteremo se tu resisti, è il messaggio che va dato ma non è il messaggio che si sta dando. Giorgia mi sono rimasti davvero 30 secondi, l'altro giorno c'era qui Matteo Salvini con me e abbiamo parlato del 2 giugno e anche lui ha confermato, immagino voglia confermare anche tu, che ci sarà questa manifestazione pacifica dove sarete uniti voi del centro-destra, quindi Forza Italia, voi di Fratelli d'Italia, la Lega, è così? Cosa chiederete al governo il 2 giugno in 30 secondi? Beh chiediamo una Repubblica fatta di lavoro, fatta di libertà, fatta di orgoglio, una Repubblica nella quale si possa tornare a sperare, lo dico perché il 2 giugno è la festa della Repubblica e quindi vogliamo una Italia che si rialza, che si rialza con orgoglio, con coraggio, guarda è vero che noi non siamo messi bene, ma non è che i nostri nonni nel dopoguerra fossero messi molto meglio di noi, loro avevano qualcosa che a noi manca, ci credevano, ecco noi dobbiamo tornare a crederci tutti insieme, questo vogliamo dire il 2 giugno a Roma e in tutti i capoluoghi di regione, in questa manifestazione del centro-destra unito, sperando che ai primi di luglio si possa anche fare una grande manifestazione con i tanti tanti italiani che ci stanno chiedendo di scendere in piazza per poter manifestare i loro desideri e il loro dissenso. Grazie Giorgia, grazie a te Barbara, buona serata, ci vediamo fra un attimo noi.